Siediti in una comoda posizione, chiudi i tuoi occhi, se questo non ti crea disagio altrimenti mantieni lì socchiusi fissando un punto nel vuoto cercando di portare piano piano l'attenzione al tuo interno. La schiena è dritta ma non rigida, la posizione è seduta, comoda. Ricorda che se qualche parte del tuo corpo crea disagio puoi scioglierla con micro movimenti di aggiustamento per riportarti sempre in una posa comoda. Ora porta la tua attenzione al tuo respiro. Non cercare di controllarlo e nemmeno di modificarlo, semplicemente sentilo scorrere attimo dopo attimo. Osserva l'aria che entra ed esce dalle narici. Cerca di seguirne il flusso, sintonizzandoti con il ritmo del respiro, senza forzare, senza forzare, senza modificare nulla. Solo ascoltalo. Puoi portare l'attenzione ai vari punti dove senti il tuo respiro, alle narici, al torace, alla pancia. Indipendentemente dal punto di osservazione mantieni la consapevolezza delle sensazioni che accompagnano il respiro, istante dopo istante. Si stai osservando le narici? Senti l'aria che entra ed esce attraverso di esse. Senti se è fresca o calda, la consistenza o qualsiasi percezione. se scegli il torace o vuoi passare alla percezione del tuo torace, senti nel movimento, l'espansione e il rilascio. Così come l'addome che si gonfia leggermente e si rilascia leggermente. sii consapevole del tuo respiro, resta solo lì con le tue sensazioni di ogni ispirazione ed non pensare ma senti. Osserva anche i minimi particolari o i micromovimenti che il tuo respiro crea nelle altre articolazioni del tuo corpo. Il bacino si muove leggermente così come le clavicole e forse anche la schiena. Se la mantieni morbida, se il tuo corpo resta morbido, tutte le articolazioni del tuo corpo si muovono insieme agli atti respiratori. Se la mente si distrae, riportala con gentilezza all'ascolto del tuo respiro. Anche tante volte non non importa. L'importante è essere delicati e gentili e riaccompagnare qui, ora, in questo momento, la tua mente all'ascolto di ogni particolare, di ogni parte del tuo corpo che si muove e di questa vita che scorre, che circola, che scambia energia dall'interno all'esterno attraverso il respiro. Prenditi il tuo tempo per prepararti dolcemente a riaprirti all'esterno, mantenendo questo stato di tranquillità che l'osservazione del tuo respiro ha generato. E ricorda sempre, prima di concludere la tua pratica, di ringraziarti per il tempo e lo spazio che hai dedicato a quell'essere meraviglioso che sei. E soffiando delicatamente l'aria per due volte dalla bocca, preparati a sciogliere piano piano, a stiracchiare il tuo corpo, i tuoi muscoli, a sbadigliare se ne senti il bisogno per riaprirti all'esterno. Grazie. 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 Grazie.